Secondo appuntamento casalingo consecutivo per l'Hockey Club Pistoia, Serie A2 su Prato, che sabato pomeriggio, in pianto Frascari, ore 15, riceverà la visita dell'Hockey Lazio. Sia pur con qualche problema di organico, la formazione di Filippo Treno cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per raccogliere altri preziosi punti salvezza. Pistoia può stare in questa categoria se fa come sabato, mette in campo tutte le proprie armi e con coltello fra i denti fino all'ultimo minuto si gioca le proprie possibilità. È un campionato molto difficile che sarà sempre partite sul filo di rana e il primo che mollerà qualcosa sicuramente sarà surclassato dall'altra squadra, quindi non possiamo assolutamente mollare un minimo. Sabato secondo impegno casalingo consecutivo arriva alla Lazio. Sì, una squadra consolidata in questa categoria che fino a cinque anni fa era in A1 che ha visto anche uno scudetto vincere nella prima categoria, poi sono retrocessi e adesso vengono qui a Pistoia contro di noi. In una posizione di classifica che non li vede benissimo e sicuramente staranno mentalizzando di venire a far punti con la neopromossa e quindi noi bisognerà farsi trovare nel migliore dei modi e ripetere la partita perfetta, cosa che non sarà assolutamente facile. Che tipo di squadra è? Un punto in due partite? Un giocatore egiziano mi dicevi di buon livello? Sì, è una squadra solida, una squadra tonica, una squadra molto muscolare, con giocatori di età media intorno ai 30 anni e quindi con esperienza che sicuramente daranno del filo dal torcere ai nostri ventenni. Con un giocatore di grande rilievo, un nazionale egiziano Gamal che gli fa la differenza a centro campo e quindi noi dovremmo pensare a fare la partita su di lui e sulla Lazio stessa che sicuramente verrà qui per far punti. La mia squadra è una condizione mentale discreta perché il successo di sabato ha dato grande vigore, purtroppo però l'espulsione di Tegera, Masi che è ancora in box e qualche giocatore un pochino acciaccato ci vede sempre in una posizione di allarme. Comunque noi non possiamo far conto su queste condizioni, metteremo in campo chi c'è e faremo di tutto per dare il massimo.